Sono Simone di Officina di Cittadinanza e siamo qua con Martina. Di cosa ti occupi Martina? Io sono responsabile di un ufficio turistico e mi occupo quindi di ricettività turistica, di promozione di eventi del territorio e tra le altre cose anche sono responsabile di redazione di una pubblicazione comunale. Quali sono state le motivazioni di questa scelta? Allora la scelta del lavoro insomma alla fine è arrivata un po' per caso, nel senso che io comunque ho fatto un percorso di studi che era legato alle discipline, io ho fatto scienze politiche quindi diciamo mi permetteva di avere vari sbocchi poi laborativi e quindi una volta uscita dall'università mi sono trovata di fronte al mondo del lavoro, ho fatto alcuni corsi specifici e poi mi sono trovata in un ufficio turistico e da lì sono nate diverse cose. Che difficoltà hai incontrato nel tuo percorso da studente e anche lavorativo? Allora diciamo che per quanto riguarda le difficoltà nel mondo dello studio, dell'università sicuramente sono legate così a una scarsa informazione rispetto a quello che poi ci si troverà una volta usciti dall'università. Quindi è tutto molto vago, è tutto molto incerto, quindi la difficoltà maggiore è quella, non avere poi una professione sicura o comunque molto ben dettagliata una volta usciti da lì, soprattutto chi fa un percorso di studi come il mio. Però il consiglio che voglio dare è anche quello di non scoraggiarsi, nel senso che se una persona secondo me ha l'impegno e la volontà, anche gli piace quello che fa, le opportunità anche un po' si possono creare. Ti senti realizzata a questo punto della tua carriera diciamo? Beh allora, realizzata? Mai al 100% guai sedersi perché altrimenti è finita. Sì, sono sicuramente soddisfatta di quello che sono riuscita a fare fino adesso, di tutti i traguardi raggiunti, però sicuramente ho voglia sempre di avere nuovi stimoli. Grazie mille! Grazie a voi! Grazie a voi! Grazie a voi!